Un team della cardiochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo ha recentemente eseguito un intervento innovativo utilizzando il sistema Angiovac per rimuovere una massa infetta all'interno del cuore di un paziente di 56 anni. La massa lunga circa 6 cm si trovava nell'atrio destro del cuore e derivava da un'infezione estesa che aveva portato a gravi complicazioni, tra cui sepsi e ascessi polmonari multipli. Il paziente, inizialmente ricoverato presso la cardiochirurgia dell'Aquila, presentava un quadro critico con infezioni diffuse e perforazione polmonare. L'Angiovac introdotto per la prima volta in Abruzzo ha permesso ai cardiochirurghi, radiologi, interventisti e anestesisti di aspirare la massa direttamente attraverso le vene femorali, senza dover ricorrere a un'operazione chirurgica tradizionale. Guidati da immagini fluoroscopiche, ecografiche, il sistema ha aspirato alla massa infetta, filtrato il sangue e lo aria immesso nel paziente tramite una pompa centrifuga, evitando così qualsiasi perdita ematica. L'intervento è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra la cardiochirurgia di Teramo e la radiologia interventistica, insieme al supporto dell'anestesia cardiochirurgica e dei tecnici della circolazione extracorporea. Il paziente, pur debilitato, ha risposto bene alla procedura, è stabilizzato e è stato trasferito nuovamente all'Aquila, dopo solo tre giorni di ricovero, per continuare le cure. Il direttore generale dell'Asli di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha elogiato l'intervento, sottolineando come l'uso di tecnologie avanzate e l'integrazione tra reparti specializzati siano fondamentali per elevare il livello delle cure disponibili. E ha dichiarato che questa procedura testimonia l'impatto positivo degli investimenti nella tecnologia e nei processi che la nostra ASL sta portando avanti per garantire ai pazienti le migliori prestazioni possibili.